SONQUA forza ragazzi bravi sono qua sono qua bravi ragazzi forza ragazzi dai 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 rostese forza rostese forza ragazzi forza dai ragazzi forza 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 dai ragazzi dai 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 forza 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 ragazzi dai 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 Forza ragazzi, forza, forza, forza! Dai, 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 dai! Forza, 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 dai, dai, dai! a Chiesi per la sua, facciamo una foto, ecco la qua, è la diretta, per la sua collaborazione. Per la maglia rosa di Leon Angel che sta capitanando. Grandi, bravo! Forza ragazzi, forza, forza! Dai che è finita, dai, 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 dai! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Dai, 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 forza rostese! Forza ragazzi, forza, forza! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! forza rastese bravi ragazzi forza rastese forza ragazzo forza forza dai ragazzi forza forza ragazzi forza forza bravi bravi stai edo fino alla fine fino alla fine stai edo c'è un ragazzino che fa tutta l'impennata vedete andiamo a vedere quando arrivasi là è così eh non mi va goditela forza ragazzi che è finita dai bravi bravi forza ragazzi che è finita forza 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 bravo bravo tieni duro bravo forza ragazzi forza forza dai bravo 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 Grazie per la nostra batteria per le premiazioni finali.